per la vostra pubblicità provinciale, regionale, nazionale, su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate al numero verde otto zero zero trenta trentaquattro sessanta quattro. La radio, a casa, in viaggio, al lavoro, si ascolta per più di duecento minuti al giorno, con regolare fedeltà, ed hai il target giusto per la tua azienda. La radio è il media perfetto per cercare nuovi clienti e raccontare loro quello che fai. Perché la radio ha il potere dell'immaginazione ed è convincente, credibile, coinvolgente e divertente. La radio appassiona e suscita emozioni. I brand pubblicizzati vengono memorizzati, si insinuano, persuadono la mente degli ascoltatori e influenzano i comportamenti e le decisioni di acquisto. La radio, adesso, oltre che in FM, è presente sui vari device e piattaforme digitali. Un quinto degli ascoltatori in rete sta ascoltando la radio. La radio stimola le ricerche sul web e quindi anche le vendite dei siti e-commerce. La radio è economica ed è il più conveniente fra tutti i media. La radio premia, la radio rende, la radio vende. Per la tua pubblicità provinciale, regionale, nazionale, scegli Radio Margherita musica italiana. Per saperne di più chiamaci al numero otto zero zero trenta trentaquattro sessanta quattro. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace ancora di più perché libera la radio Margherita. La tua radio preferita. Solo musica italiana. Radio Margherita presenta canzoni sopra le nuvole. Canzoni sopra le nuvole. Le più belle canzoni italiane eseguite da grandi artisti ormai scomparsi. A canzoni sopra le nuvole. Oggi ricordiamo Raffaella Carrà. Se per caso cadesse il mondo io mi scosto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette. I miei numeri più li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra. Quando ho letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore io sono pronta e tu tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa trovi un altro più bello che problemi non ha. e se ti lascia. tutti dicono che l'amore fa brancetto con la collia. Ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù. Litigare, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando ho letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore io sono pronta e tu tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. E se ti lascia lo sai che si fa trovi un altro più bello che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore io sono pronta e tu tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Canzoni sopra le nuvole. Raffaella Carrà Pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è stata una subrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana è stata presente nei parincesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi e ha conquistato 24 dischi tra platino e oro. Nell'autunno del 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. È stata anche un'amatissima icona LGBT. Nel 2017 in occasione del World Pride di Madrid l'è stato infatti assegnato il riconoscimento di ambasciatrice dell'amore. Raffaella Carrà muore a Roma il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni. Non dire niente, non dire bugie, non inventare più. Io so già tutto, tutto di lei, tutto di lei e te. Credi davvero che sia un mistero quello che un uomo fa. Va, ti prego vada a lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io, le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince, c'è chi perde e stasera ho perso a te. Ma, spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Dico sul serio, non sto bluffando, non ce la faccio. Meglio per tutti, se te ne vai, se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà a metà. Va, ti prego, vada a lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io, le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince, c'è chi perde e stasera ho perso a te. Ma, spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. E va, ti prego, vada a lei, non farla più aspettare e salutala per me. Io, le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Sì, lo so che nell'amore c'è chi vince, c'è chi perde e stasera ho perso a te. Ma, spero solo che nel tempo, chissà dove, chissà quando, tu pensi a me. Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole. Oggi abbiamo ricordato Raffaella Carrà. Questa è Radio Margherita, musica italiana. Sono le ore 19 e 26 minuti.